Il tema dell'immigrazione è un tema caldo, come già stato suggerito, per molti motivi, per varie ragioni, che cercheremo di approfondire grazie ai nostri due relatori. È stato affrontato da Papa Francesco in tante occasioni, non ultima, domenica scorsa, 105esima giornata mondiale del migrante e del rifugiato. L'omelia di ieri, l'inaugurazione della scultura in piazza San Pietro, non so se avete presente, la nave con i migranti di varie nazionalità ed epoche storiche e soprattutto il messaggio per la stessa giornata. Sono stati momenti molto forti, hanno suscitato approvazione ma anche reazioni diverse, qualche reazione anche caratterizzata da un senso di fastidio. Proviamo a ragionare allora in modo un po' più oggettivo, in modo più oggettivo possibile, per fare un po' di luce su questo fenomeno, il fenomeno migratorio. Ci aiuteranno appunto i nostri due ospiti, che presento subito alla mia destra. Jean-Leonard Touadi, docente universitario originario del Congo-Brasavi. Laureato in filosofia alla Pontificia Università Gregoriana di Roma e in giornalismo e scienze politiche alla LUIS. Ha insegnato filosofia e religione in vari istituti delle scuole superiori di Roma e poi all'università Bologna, Milano e a Tor Vergata. Ha collaborato con la RAI come autore e conduttore di programmi radiofonici e televisivi, autore di vari articoli e monografie sui temi dei rapporti Nord-Sud, sull'Africa, sull'immigrazione, sull'intercultura. Collabora con la storica rivista dei Padri Comboniani, specializzata in questioni africane, dal titolo Nigrizia. Poi è scritto anche per l'IMES a Spegna e su questioni riguardanti la storia, la geopolitica e l'economia africana. Importante è anche il suo impegno attivo nell'ambito politico. Alla mia sinistra, Padre Aldo Scoda, missionario scalabriniano e preside del SIMI, che è l'Istituto Internazionale delle Migrazioni di Padre Scalabrini. Adesso potrei presentare in modo un po' più dettagliato anche questa realtà. Alla Pontificia Università Urbaniana di Roma, Padre Aldo è nato a Scutari in Albania nel 79, ha alle spalle un'esperienza migratoria e ha conosciuto poi i padri scalabriniani e il loro carisma a favore dei migranti. A Bassano del Grappa ha frequentato il liceo classico, poi a Piacenza gli studi di filosofia e ha fatto il noviziato e gli studi di teologia a Roma. In qualità di cappellano, nella diocese di Brescia, si è occupato della pastorale con i migranti, ha una laurea in psicologia conseguita alla cattolica e da otto anni è al SIMI, appunto, preside, dove insegna discipline attinenti all'ambito della teologia pastorale e delle scienze umane applicate ai fenomeni, soprattutto relative ai fenomeni migratori. Ecco, questa è un po' la presentazione dei nostri due ospiti e pensavo di strutturare così la serata. Ho preparato alcune domande, due domande un po' più impegnative, le prime due, la prima a Jean-Leonard Tuadi e la seconda a Padre Scotari. Cominciamo con Jean-Leonard. Vista la tua esperienza, la tua conoscenza, anche dal punto di vista proprio scientifico, volevo chiederti se ci puoi aiutare ad avere un quadro più chiaro sulle dinamiche delle migrazioni interne ed esterne del continente africano. Quali sono le motivazioni che portano una persona a migrare all'interno dell'Africa, ma anche fuori dell'Africa? Quali sono le rinunce, quali tipo di investimento umano, personale, di risorse? E quali sono anche le ricadute sugli Stati, ma soprattutto sulla vita delle persone, sugli Stati e anche sugli Stati africani. Ecco, sono varie domande, comunque se ci aiuti un po' a delineare questo complesso fenomeno che è quello delle migrazioni a partire dal continente africano. Grazie. Grazie, grazie al nostro moderatore, grazie al Vescovo che ci ha accolto in questa diocesi, grazie a voi tutti che state qua questa sera. Permetterete di fare dei ringraziamenti personali a Don Martino, che conosco da più di 20 anni, con il quale abbiamo fatto belle esperienze, un cammino di riflessione, ecco come quello che stiamo facendo stasera, prima al CUM, al CUM di Verona, però anche qui a Conegliano, penso che abbiamo fatto più di 3-4 incontri. Saluto le amiche di sempre che ci hanno accompagnate in questo percorso, vedo Serena da qualche parte e altre ancora. È una serata importante perché noi viviamo, mi permetterete questa prima introduzione, sospeso nell'istante in una società dello spettacolo, la chiama Guy Debord, che è uno studioso di comunicazione di massa. Siamo una società che vive in una specie di stereorealtà istantanea, dove una notizia caccia l'altra e sempre così in un crescendo di flussi informativi che non ci lasciano mai il tempo di ritrattino flettere, cioè tempo di tornare sul nostro vissuto individuale e collettivo per pensarlo, per pensarlo, per dargli un significato, un senso, per creare dei nesi di causalità tra quello che ci accade e cercare di dargli un significato. Quindi questo che stiamo facendo stasera è quasi un lusso per la società nella quale viviamo, il fatto di fermarsi per ritrattino flettere, per tornare sul nostro vissuto. E il vissuto di questi ultimi anni, di questi ultimi decenni, ci consegna l'immigrazione come la cifra della nostra contemporaneità, anzi una delle cifre della nostra contemporaneità. Una questione globale. Se voi chiedete a coloro che pensano alle strategie globali e vi chiedete su che temi volete riflettere, questi sono l'ambiente, sicuramente è molto roba di questi giorni, so che avete fatto una cosa qua sull'Amazzonia. Altro tema globale è, questo è più annoso, gli spazi dell'economia che crescono, che diventano planetari e il governo che rimane nazionale e se va bene regionale. Quindi noi abbiamo delle risposte locali, nazionali a tematiche che sono diventate tematiche globali. Con la difficoltà, di avere una governance che abbia la stessa copertura spaziale di quello che la globalizzazione è diventata. La globalizzazione ha dilatato gli spazi dell'economia, gli spazi dell'informazione, però il governo rimane un governo nazionale e globale. Quindi di cui il caos e l'anarchia che regna all'interno di questa globalizzazione, perché manca, direbbero i scienziati della politica, manca un leviatano, manca qualcuno che governi tutto questo e riconduca le varie istanze dei territori globali a una armoniosa ricomposizione. Ed è un dibattito che non può non interessare una comunità che si chiama cattolica, perché a noi piace, noi siamo quella dimensione universale. Però ci rendiamo conto che dentro questa dimensione diventata globale ci sono delle cose che non ci piacciono, per esempio la globalizzazione dell'indifferenza, come la chiama il Papa Francesco. Quindi temi epocali e tra i temi epocali l'ambiente, il governo della globalizzazione, c'è sicuramente l'immigrazione, che è la cifra della nostra, una delle cifre, come dicevo, della nostra contemporaneità. Cioè la grande questione, noi la chiamiamo immigrazione, ma è riduttiva in realtà, la grande questione della mobilità umana. L'uomo si è sempre mossa. E a proposito di Africa, la prima migrazione africana avviene centinaia di milioni di anni fa. Cioè quando l'Africa è stato in quel luogo, quel teatro, dove la nostra specie umana ha compiuto il processo di ominizzazione. Cioè il processo che ci ha portato dalla condizione di shimian troppo morfe alla condizione di Homo sapiens sapiens. E da lì, dall'Africa, quindi siamo tutti africani sotto questo punto di vista. Siamo tutti africani. E' lì il ceppo, il ceppo originale, archetipico, primitivo, si direbbe, dell'umanità. Da lì poi l'uomo si è mosso verso l'India e dall'India è venuto a popolare l'Europa. Quindi nulla di strano nella mobilità umana. La mobilità è dentro la condizione umana. L'uomo si è sempre mossa. E perché gli uomini si sono mossi? Perché il deserto del Sara, che una volta era rigogliosa, durante il paleolitico e il neolitico, è diventata una terra non ospitale. E quando è diventata una terra non ospitale l'uomo si è mosso. Quindi non consideriamo la mobilità come un fatto straordinario, un fatto connaturato all'uomo, appartiene all'uomo muoversi alla ricerca della difesa del primo di tutti i diritti, che è il diritto alla vita. E quando le condizioni di vita non permettono più ad essa di svolgersi, l'uomo si muove. E quindi l'Africa è stata questa. La terra dove tutti noi siamo venuti. È una terra primordiale. Però c'è anche un altro aspetto che parlando in un contesto europeo come questo, e non va dimenticato, vista dall'Africa l'immigrazione. L'Africa è stata anche quel continente che nel 15esimo, 16esimo, 17esimo secolo è stata costretta ad immigrare grazie al grande periodo storico della tratta degli schiavi. Milioni e milioni di africani costretti a lasciare la loro terra attraversando in condizioni durissime l'Atlantico per andare nelle Americhe a lavorare. Il che ha creato quello che noi chiamiamo l'Africa diasporica, perché accanto all'Africa che c'è in Africa c'è l'Africa diasporica, che è composta da tutti i neri che durante la tratta degli schiavi sono andati negli Stati Uniti, a Santo Domingo, a Cuba e in tutti i luoghi dove questi schiavi sono andati a vivere. E poi abbiamo l'immigrazione di oggi, che ha delle peculiarità, che ha delle particolarità. Intanto, la domanda delle domande, ma è vero che tutti questi negri vogliono venire in Italia? È vero che tutta l'Africa si vuole trasportare in Europa? È uscito anche un libro recente di Philippe Remy, non è ancora stato tradotto in italiano, La Grande Invasion Africaine, La Grande Invasione Africana. Quindi ho portato un po' di cifre, ma anche per dare le esatte dimensioni di quante vengono da questa parte e quanto invece è il fenomeno nascosto, di cui non si racconta, delle migrazioni intra-africane, che è molto di gran lunga molto più importante, molto più imponente dal punto di vista quantitativo delle migrazioni che avviene in Europa. Poi vi parlerò dei fattori che spingono queste persone a andare via e poi concluderò perché sono molto attento, abbiamo detto 20 minuti e mi atterro ai 20 minuti. È un po' complicato limitare il tempo agli africani, però si dice che il buon Dio ha dato l'orologio agli svizzeri e il tempo agli africani. Non siamo in Africa. Allora, ho portato qua, a chi è interessato, poi li mando via me, uno studio che ha fatto l'Istituto ISPI di Milano, un istituto di politica internazionale, proprio sull'emigrazione intra-africane. Ecco cosa scrivono, leggo perché non ci vedo, cominciò a invecchiare Don Martino, prima non avevo gli occhiali. Allora scrive questo pezzo, questo dossier al quale ho collaborato di Delipsi. Se l'Africa subsahariana è davvero in movimento, gli africani non procedono in massa verso l'Europa. Quindi non è vero che tutti, è vero che c'è un movimento migratorio imponente nel continente africano, però non tutti questi vogliono venire in Europa. Dei 27 milioni di emigrati che al 2018 originavano dall'Africa subsahariana, quindi 27 milioni, solo una minoranza di 8 milioni di persone lasciate alla propria terra si era stabilita in Europa, Nord America, Medio Oriente o in un'altra regione del globo. Quindi 8 milioni, solo 8 milioni, non in Europa, in Europa, in America Latina, in America del Nord e in altre regioni del globo. Lo studio stima in qualche cosa come 3 milioni e mezzo solo, coloro che poi approdano in Europa. Gran parte dei migranti subsahariani, 19 milioni di persone complessivamente, hanno sì attraversato i confini, ma spesso solo per spostarsi in uno stato limitrofo o comunque fermandosi in Africa. Per svariate ragioni, non ultime, le risorse materiali e i materiali su cui contare per poter affrontare percorsi più lunghi, si tratta di migranti con una predisposizione e una capacità a lasciare l'Africa molto inferiori rispetto a quella dei migranti nordafricani. Che cosa ci dice questo? Una cosa molto triste, che anche nell'immigrazione c'è una specie di selezione naturale, cioè non tutti possono migrare. Immigrano coloro che hanno più capacità di racimolare i soldi o individualmente, o le famiglie che trovano i soldi e fanno un investimento su uno di loro, perché sanno che la famiglia che ha un figlio che è andato all'estero sta meglio perché riceve quello che si chiamano le rimesse, cioè i soldi che gli immigrati mandano a casa. Che ad oggi, secondo le stime della Banca Mondiale, i soldi che gli immigrati mandano a casa superano di dieci volte la montare complessivo dell'aiuto pubblico allo sviluppo. Quindi è un grande motore di finanziamento dello sviluppo, le rimesse degli immigrati. La prospettiva a cui siamo abituati in Italia e in Europa trascura pertanto il fatto che i processi migratori dell'Africa sul-Sariana sono principalmente, anzitutto, fenomeni intra-regionali. Questo lo afferma l'Ipsi e ci sono anche delle cartine, delle mappe con delle cifre, per coloro che sono interessato. Poi, come ho detto, manderò il dossier agli organizzatori. Anche in Africa sul-Sariana, nota il dossier, esistono marcate differenze tra i singoli paesi in termini di opportunità economiche. Quindi in Africa occidentale, per esempio, Nigeria e Ghana sono due poli di attrazione delle immigrazioni, perché sono quelle economie che vanno un po' meglio delle altre e quindi attraggono migrazioni. La Costa d'Avorio, per esempio, è un paese che è paradossale, perché tra l'altro noi abbiamo molti immigrati nigeriani, molti immigrati ghanesi, molti immigrati della Costa d'Avorio, però sono tre paesi che in Africa occidentale sono a loro volta destinatari di grandi e importanti flussi migratori. Nel Sud-Africa, per esempio, in Africa australe, l'Africa del Sud è sicuramente uno dei poli di attrazione dell'immigrazione, è una delle economie più importanti del continente. Da soli Sud-Africa e Nigeria fanno due terzi del PIL di tutto il continente africano, quindi potete immaginare la capacità attrattiva del Sud-Africa, soprattutto dopo l'Apartheid, anche se mentre stiamo parlando ci sono violenze dei Sud-Africani neri contro gli immigrati subsahariani. Pensate com'è strano tutta l'Africa che si era mobilitata contro l'Apartheid. Oggi c'è la violenza dei Sud-Africani contro i migranti che vengono dal Botswana, dall'Esoto, dal Mozambico, dallo Zimbabwe. Ed è un fatto estremamente pesante che interroga, interpella la politica Sud-Africana. Anche lì dei partiti Sud-Africani hanno soffiato sul fuoco della xenofobia. Non si può dire razzismo perché sono neri contro il fuoco, è una drammatica e tragica guerra tra poveri, quella che sta andando in onda in Sud-Africa. Quindi le sperequazioni economiche tra paesi come uno dei fattori di attrazione di un'immigrazione da un paese all'altro. Pensate solo ai due Congo, a cui si faceva riferimento poco fa, il Congo cosiddetto democratico, sedicente democratico, che è l'ex Zaire, Congo belga, e il Congo Brazzaville, da cui vengo io. Quindi stiamo parlando di un territorio di 2.342.000 km2 e 345.000 km2, quindi un Congo piccolo, una provincia. La grande immigrazione dal Congo grande verso il Congo piccolo è imponente. I congolesi di Brazzaville sono 4 milioni, hanno più di un milione e mezzo di profughi provenienti dall'altro Congo, proprio per la differenza di livello economico. Quindi le sperequazioni economiche, i conflitti. Ci sono qui dati che dicono per esempio che l'Uganda, che è considerato un paese modello in materia di rifugiati, perché l'accoglienza in Uganda è diffusa, i rifugiati, i migranti hanno accesso ai servizi essenziali, scuole, sanità, non vengono rinchiusi nei campi, ma vengono dati loro dei appezzamenti di terra, possono circolare liberamente dentro l'Uganda. Ebbene l'Uganda con dei paesi turbolenti dal punto di vista della stabilità, che sono la Repubblica Democratica del Congo, il Burundi, so che avete rapporti missionari con il Burundi, che è un paese che sta sull'orlo della guerra civile, siamo veramente molto preoccupati. L'Uganda accoglie 1 milione e 500 mila rifugiati, anche dal sud Sudan. Quindi le sperequazioni economiche, i conflitti, che sono un fattore, un potente fattore di espulsione delle persone dalle loro terre. E aggiungo un altro elemento che anche qui il dossier analizza, è qualcosa con la quale dovremo fare i conti nel futuro secondo le stime dell'ONU e secondo le stime della FAO dove lavoro, i cambiamenti climatici. I cambiamenti climatici stanno diventando forse il più importante fattore di espulsione. dell'immigrazione dall'Africa. Vi cito solo due esempi, perché tra un po' concludo. Il primo esempio è il bacino del lago Chad. Non tutti voi conoscete il lago Chad, però è uno dei più grandi laghi africani dove affacciano il Chad, il Camerun, il Niger e la Nigeria, quattro paesi, le cui economie di quelle zone erano determinate dalla presenza del lago Chad, sia come risorsa ittica, sia come bacino del lago Chad che comunque fertilizzava le terre intorno e dava l'acqua per l'irrigazione. Quanti di voi sanno che il lago Chad in vent'anni ha perso tre quarti della sua acqua, espellendo milioni e milioni di persone. Quindi in quell'area dell'Africa. Se mettete il mix tra prosciugamento del lago Chad e la presenza di Boko Haram, potete immaginare quanta vita ci può essere dentro quel territorio. L'altro aspetto è l'avanzata del deserto. Il deserto avanza. Ero ancora al liceo, mi pare, quando si parlava del grande muro verde da erigere nel Sahel per fermare l'avanzata del deserto. Il muro verde significa piantare degli alberi, perché là dove si piantano degli alberi le piogge tornano e se tornano le piogge si può coltivare e se si può coltivare le popolazioni possono rimanere nelle loro terre. Ora il deserto avanza velocemente, velocemente. E quindi anche in quei paesi sfigati, sfigati, lo capite i giovani, a Roma si riesce. In quei paesi sfigati dove pioveva due mesi su dieci, in questo momento piove un mese su dodici. Quindi siccità, chi dice siccità, quindi incapacità di coltivare. E tenete presente che per la crisi del debito, quei paesi del Sahel sono coloro a cui è stato imposto di coltivare il cotone come unica fonte di reddito di valuta estera per pagare il loro debito. Ora se pianti il cotone non pianti quello che serve per mangiare. Se piove poco e alimenti il cotone non hai di che mangiare. E così possiamo moltiplicare i casi. Per cui i cambiamenti climatici ci costringeranno, dice l'ONU, a riflettere sempre più in termini di rifugiati climatici, di rifugiati ambientali. Quindi vado verso la conclusione, dico l'ultima parola, quindi l'Africa è interessata da questi grandi flussi migratori che hanno, questa è una questione che interessa l'Italia, noi siamo abituati a pensare, noi l'Europa, il sud dell'Europa, il mar Mediterraneo, il Maghreb. Il Maghreb come frontiera meridionale dell'Europa. Invece la frontiera meridionale dell'Europa si è abbassata. Perché? Perché la guerra in Libia ha trasformato il deserto del Sahara, in una terra di nessuno, con tutti gli arsenali libici che si sono riversati sul deserto, con i traffici criminali di tutti i tipi, a cominciare dal traffico degli esseri umani, che adesso è più redditizio di quello delle armi. Quindi c'è una tale porosità, permeabilità tra il Sahel e il Nord Africa, che in realtà oggi non si può affrontare la questione del Maghreb senza anche affrontare la questione del confine meridionale che si è abbassata. Termino solo dicendo che parlando di migrazioni in Africa, migrazioni degli africani, noi stiamo facendo una riflessione sul modello di sviluppo. Quindi torno a quello da cui siamo partiti, alla globalizzazione che delle responsabilità ha in quello che sta accadendo. I conflitti per esempio non sono conflitti etnici, non sono conflitti tribali, a meno che le multinazionali siano considerate come grandi tribù, allora sì, sono guerre tribali. In realtà sono guerre contemporanee, sono guerre per le materie prime, sono guerre per le energie e così via dicendo. Un diamante per la vita, la via condotti a Roma, significa dei bambini di 10 anni con i piedi sotto l'acqua per 12 ore in Congo per setacciare il fiume alla ricerca di diamanti. Grazie. Grazie Gianni, è che in un tempo circoscritto si è stato capace di dare i punti fondamentali un po' per così muoversi con sufficiente accortezza dentro a questo grande fenomeno complesso della migrazione, delle migrazioni dell'Africa e dall'Africa. Padre Aldo, a te chiederei un contributo più sudversante ecclesiale, vista la tua esperienza come scalabriniano a diritto contatto con il mondo dei migranti. Vorrei chiederti appunto se ci aiuti a inquadrare il fenomeno delle migrazioni da una prospettiva più ecclesiale, che cosa significa per la Chiesa questa complessa realtà delle migrazioni, in particolare anche in questo caso delle migrazioni dall'Africa. Grazie, un saluto a tutti i presenti, in modo particolare un ringraziamento anche a Monsignor Pizziolo che ha voluto anche questo incontro qui. Mi hanno colpito le parole, Monsignore, la possibilità di ragionare, di parlare in maniera con serenità, con approfondimento e verità nella questione migratoria. E credo che questa sia una sfida fondamentale oggi non solo per le società intese appunto come società nazionali, società locali, ma anche per le comunità cristiane. Siccome il mio intervento vuole un po' sottolineare maggiormente l'aspetto cristiano, una visione, se vogliamo, a partire dai valori cristiani della Sacra Scrittura e in modo particolare richiamerò alcuni elementi sulle migrazioni, beh non posso che non cominciare con un aneddoto, un racconto, storico comunque, di Monsignor Scalabrini che è anche il fondatore dei missionari scalabrignani. Una congregazione è nata alla fine dell'Ottocento per aiutare, accompagnare i migranti italiani che anche da queste terre venete partivano a migliaia. E quando Monsignor Scalabrini si trova di fronte alle persone che da Piacenza, un terzo della sua diocesi va via, un terzo delle persone, della popolazione della sua diocesi va via, si fa una domanda come la Chiesa può affrontare, come un pastore può affrontare questa emorragia umana e anche religiosa. E in un incontro è divenuto emblematico una lettera che gli viene mandata dagli Stati Uniti, una richiesta di un italiano che scrive a Monsignor Scalabrini dicendogli, Monsignore ci mandi un prete perché qui si vive e si muore come degli animali. e di fronte a questa grande sfida, grande richiesta e grande compito morale che Scalabrini sente, va a Roma a confrontarsi con diversi di castelli anche del Vaticano e molte volte si sente dire ma non c'è bisogno di occuparsi molto o di mettere su strutture o addirittura congregazioni a favore dei migranti, degli italiani all'estero. Tanto l'immigrazione finirà, durerà pochi anni e poi la gente smetterà di partire. Bene, siamo nel 2019 e ancora l'immigrazione non solo non è finita ma ovviamente come abbiamo ascoltato anche il professore l'immigrazione ovviamente continuerà e aumenterà e in modo particolare grazie anche, o sfruttatamente grazie anche a queste dinamiche di ingiustizia economica o di produzione di conflitti. Il Santo Padre domenica all'Omelia ha richiamato fortemente l'ingiustizia, la produzione e la venta di armi l'impoverimento di molte zone del globo e della terra che causano la fuga delle persone ma ahimè proprio quelle nazioni o quelle comunità che sono la causa principale di questo impoverimento sono a volte anche quelle comunità che più si accaniscono contro i migranti e contro i rifugiati che questo sistema produce. E allora di fronte a questa situazione la Chiesa e ovviamente in modo particolare oggi ha qualcosa da dire. Non perché abbiamo scoperto oggi il fenomeno migratorio e non perché il fenomeno migratorio stia diventando una moda della teologia o della riflessione ecclesiologica pastorale ma perché nel DNA proprio della Chiesa stessa sta il fenomeno migratorio. E lo richiamerò. Ma innanzitutto ciò che la Chiesa oggi con una voce è anche molto autorevole del Santo Padre, Papa Francesco vuole promuovere e ampliare un po' lo sguardo su questo fenomeno migratorio. E ampliare lo sguardo significa andare un po' al di là di quelle parole che ormai sono diventate parte della nostra riflessione, della nostra mentalità e di conseguenza anche delle nostre azioni nei confronti dei migranti e rifugiati anche nelle politiche, ossia per esempio la parola crisi, crisi. La crisi migratoria, la crisi dei rifugiati. Ora non è compito mio perché i dati sono già stati dati, ma in questi ultimi anni e nell'ultimo anno 2018 parliamo di cifre di centomila, centoquarantamila persone arrivate in Europa, confronto a un milione di persone circa che passano il confine tra Messico e gli Stati Uniti. Siamo di fronte a una sproporzione di percezione di numeri che non aiutano ad avere quella capacità di parlare del fenomeno migratorio con quella dell'attenzione serena, approfondita e vera. E in qualche maniera la Chiesa e il Magisterio di Papa Francesco vogliono aiutare a cominciare dalle comunità cristiane ad ampliare lo sguardo su questo fenomeno, ad uscire fuori da quello che le comunicazioni di massa, in modo particolare, hanno costruito come problema, come crisi migratoria. E ha ragione Cardinal Bassetti quando diceva che spesso e volentieri anche nelle nostre comunità o nel nostro dibattito sociale e pubblico le migrazioni sono diventate una distrazione di massa. Ora, come poter fare fronte a queste situazioni? Come coinvolgersi come comunità cristiana, come la teologia può aiutare, come la Chiesa può aiutare a superare quei quattro elementi che secondo me sono fondamentalmente i vizi o i peccati strutturali con i quali noi affrontiamo normalmente l'emigrazione. E il primo vizio capitale col quale noi analizziamo, riflettiamo e agiamo nel mondo della mobilità umana è quella della parzialità dell'analisi, la parzialità della visione, la parzialità dello sguardo. Parliamo di parzialità perché non solo in senso quantitativo ma anche qualitativo. Cosa significa questo? Concentriamo la nostra attenzione per esempio semplicemente nei migranti che entrano attraverso il mare, attraverso gli sbarchi, come se non ci fossero altre forme di ingresso o forme migratorie in Italia e altrove. Concentriamo la nostra attenzione su alcune categorie di persone creando addirittura stereotipi o pregiudizi nei confronti dei migranti e dei rifugiati e non siamo attenti a capire le molteplici dinamiche che coinvolgono individui, famiglie, contesti, istituzioni. Allora ecco che questa parzialità dell'analisi la riflessione cristiana, la riflessione teologica non risponde ovviamente con una soluzione a forma di una pillola per sanare o risolvere le questioni del mondo ma offre uno sguardo, una percezione che noi possiamo chiamarlo innanzitutto la cattolicità. Di fronte alla parzialità della visione del mondo e delle sfide migratorie, la teologia cristiana ci offre il concetto o il grande valore della cattolicità che è qualcosa che fa parte ed è profondamente legata alla storia e alla genesi della Chiesa stessa. E quando parlo di cattolicità non intendo ovviamente della rettitudine, della dottrina, diciamo così, ma parlo proprio nel suo senso etimologico, cioè una Chiesa cattolica che significa una comunità universale. La Chiesa non si identifica con una etnia, non si identifica con un gruppo sociale, non si identifica con una ideologia. La Sacra Scrittura, vista da questa prospettiva, è piena di spunti, di conflitti addirittura all'interno della comunità cristiana stessa per far valere la dimensione della cattolicità di fronte al pericolo della parzialità. Basta ricordare i primi anni, i primi sforzi missionari che abbiamo anche negli atti degli apostoli. La paura di aprirsi all'altro, la paura di confrontare il messaggio cristiano con il mondo conosciuto allora, con i cosiddetti pagani. E il grande coraggio che i primi apostoli, i primi missionari hanno avuto nel portare il Vangelo e la Gesù in tutto il mondo, a cominciare da quei luoghi dove il mondo aveva un significato profondamente diverso dal punto di partenza dove partivano questi missionari. La cattolicità come strumento quindi per aiutare la comunità cristiana e la comunità sociale a superare quella chiusura che spesso noi viviamo all'interno delle nostre comunità, all'interno delle nostre società. Ripeto, non è la soluzione questa, ma è una marcia da ingranare verso la direzione giusta. Il secondo elemento credo che fa problema nell'affrontare il discorso del fenomeno migratorio è la temporaneità. Vi raccontavo prima di Scalabrini. Cosa vuoi? L'emigrazione ha un inizio, uno sviluppo massimo che agita tutti e poi prima o poi finirà. Ma, e questo ovviamente significa che la temporaneità del fenomeno produce anche delle soluzioni deboli, temporane, parziali, profondamente inefficaci, delle soluzioni che certamente non vedono nell'emigrazione una risorsa, ma vedono continuamente nell'emigrazione un problema da gestire. La parzialità, la temporaneità del fenomeno però porta anche allo sviluppo del fenomeno della dignità umana. Io ti tengo qua finché mi servi. Nel momento in cui non mi servi più, ti mostro la porta e la strada di casa. E questo ovviamente ha creato anche dei problemi profondi della struttura, della concezione della famiglia stessa, della dignità umana. Porto un solo esempio, profondamente legato anche all'emigrazione italiana negli anni 60, negli anni 70, in Germania e in Svizzera per esempio, dove i migranti erano considerati dei lavoratori ospiti. Finché tu avevi un lavoro, finché tu potevi contribuire in qualche maniera attivamente alla comunità, eri utile. dopodiché però non voglio sapere della tua famiglia, dei tuoi figli. I missionari scalabriniani, ma non solo, hanno costruito, hanno fondato per esempio a Osimo un collegio, il collegio San Carlo, che era per i figli rimasti, i figli dei migranti rimasti in patria rispetto ai genitori che lavoravano in Svizzera. Oppure i nostri padri ci raccontavano spesso che andavano a visitare i migranti e i genitori nascondevano i figli, non li permettevano di uscire dalla casa perché se la polizia li trovava rischiavano di essere rimpatriati da sole, senza i genitori. La temporaneità della visione, cioè la visione del fenomeno migratorio, sotto la lente della temporaneità, produce quindi non solo politiche e soluzioni temporanee e una visione distorta di crisi, ma produce anche un cambiamento nella dignità della persona e nel senso della comunità stessa. E allora qui la risposta della teologia, la riflessione, diciamo così, l'obiettivo che possiamo mettere in qualche maniera per comprendere e per far fronte alla temporaneità del fenomeno migratorio è quello della escatologia. Ora dico una parola che ovviamente il pubblico clericale sicuramente è più, diciamo così, abituato, ma che cosa significa? Significa semplicemente che il tempo non è fisso nel qui ed ora, ma l'uomo è aperto a un orizzonte di significato e di fede molto più grande della temporaneità dei propri giorni. Siamo aperti a un orizzonte e la Sacra Scrittura è molto chiara in questi richiami. Proviamo a pensare alla bellissima immagine della Gerusalemme celeste, di questa città aperta con dodici porte dove entrano persone di ogni cultura, razza, nazione, estrazione sociale, eccetera. Questa visione di compimento, questa visione della comunione e dell'unione della famiglia umana in Dio sono certamente un elemento in più per riflettere all'interno delle comunità cristiane e per diventare anche pensiero sociale di fronte alla trappola mentale e di azione del fenomeno migratorio come fenomeno temporaneo. Terzo elemento importante è la localizzazione del problema e della risposta. Vi dicevo prima, quando partiamo da una parzialità dell'analisi, anche le risposte, anche le soluzioni sono parziali e quindi localizzate. Ricordavo molto bene prima il professore Bauman, un grande sociologo, diceva che noi ci sforziamo di trovare soluzioni locali a problemi globali. Bisogna modificare anche il nostro approccio a queste situazioni. Io non posso partire e leggere il fenomeno migratorio considerando il migrante semplicemente nel momento in cui varca un confine internazionale. Ma da dove viene questa persona? Che storia ha? Che famiglia ha? Da che realtà proviene? Che problemi porta? Che speranze porta nel cuore? La localizzazione del problema e della risposta portano certamente a una debolezza delle azioni sociali, politiche. Ma quale potrebbe essere quella invece, quella controparte della riflessione cristiana che potrebbe in qualche maniera incentivare, aprire, uscire da questa trappola della localizzazione? Beh, è proprio quello con il quale noi iniziamo oggi il mese, cioè la missione. La missione è universale, la missione è onnipresente, la missione è la maniera per rendere universale ciò che era un messaggio locale, ciò che era un messaggio vissuto da Gesù, da dodici persone, che diventa una spinta importante, trasporto, se vogliamo, non solo spirituale e ideale, ma concreto, concreto, di portare la buona notizia fino ai confini del mondo, fino ai confini del mondo. e l'icona più emblematica è il giorno di Pentecoste, dove gli apostoli sono chiusi, sbarrati dentro questa stanza e la scrittura è molto quasi drammatica nel raccontare questa chiusura ermetica che veniva dalla paura che gli apostoli avevano da ciò che c'era fuori e questo spirito che invece gli porta ad annunciare, a scapito a volte anche delle proprie paure e della propria vita, la buona novella fino ai confini del mondo. Ecco che allora la missione, questo andare, questo uscire col quale noi ci stiamo ormai abituando nel linguaggio di Papa Francesco, questo uscire diventa anche la maniera migliore per affrontare invece quel virus, quel vizio della localizzazione, della chiusura e della parzialità con la quale noi spesso affrontiamo il fenomeno. E ultimo, perché immagino che il mio tempo sta scadendo, un minuto, e ultimo ma non meno importante, come quarto elemento, la depersonalizzazione del migrante. Ora tutti sono migranti, non importa se uno viene dal Congo, dal Peru, dall'Albania, dalla Russia, dal Messico, tutti li chiamiamo migranti o rifugiati, quasi come se fossero parte di una subspecie umana presente in natura. Ma i migranti non esistono in natura, i rifugiati non esistono in natura, in natura esistono le persone, donne e uomini come noi. E il rischio più grande che noi abbiamo oggi, anche come comunità cristiana, è quello di passare da etichette legali, cioè quelli che in qualche maniera categorizzano le persone in base a delle leggi o a delle visioni anche sociologiche, economiche, demografiche, come possono essere le etichette di migrante e rifugiato, cioè da etichette sociali a etichette antropologiche, cioè esistenziali. Scompare l'individualità della persona, scompare la sua storia, scompariono le sue paure, le sue speranze, io ho di fronte un migrante, è una persona che non ha un nome, non ha una storia, non ha un passato, al quale gli viene negato persino un futuro migliore, diventa bersaglio facile, diventa bersaglio facile anche di esclusione morale, cioè io posso non solo criticarlo, ma posso anche denigrarlo, persino usargli violenza senza sentirmi in colpa, perché? Perché l'ho svestito della sua umanità. Allora anche qui la riflessione teologica della Chiesa ci aiuta a recuperare quel valore dell'umanità, quel senso della comunità che sempre più oggi è difficile da vivere, proprio a cominciare le comunità cristiane. È da qui che parte anche la grande sfida di quella Chiesa che non è semplicemente spettatrice degli eventi sociali, ma diventa quel fermento vivo, utile, saggio, a volte silenzioso, ma profondamente provocatorio della società per cambiamento non futuro, ma attuale, oggi. La comunità cristiana della storia ha saputo fare il cambiamento. Perché non raccogliere anche noi oggi come cristiani questa sfida di fronte ai grandi problemi del mondo. Grazie per la vostra attenzione. Grazie a Padre Aldo per questa rilettura credente, teologica, del fenomeno dell'amigrazione e ci aiuta a vedere come la fede si fa scoprire le ambiguità di una certa lettura appunto del fenomeno migratorio. letture a volte, come potremmo dire, viziate da comprensioni parziali che emergono anche, adesso mi tiro un po' una zappa sui piedi, dai mass media, dai giornali, dagli strumenti di informazione che talvolta presentano in molti casi proprio, come diceva Padre Aldo, in modo localistico, insistendo sulla temporaneità, sulla parzialità dei fenomeni, personalizzando i migranti. A volte ci presentano così il fenomeno migratorio e le persone coinvolte da questo fenomeno. Secondo te, Jean-Leonardo, quali sono i motivi che stanno alla base di una lettura all'interno, in modo particolare, dei mass media, di questo genere, del fenomeno dell'immigrazione? Cinque, grazie. La questione della comunicazione dell'immigrato sul cosiddetto fenomeno migratorio, io arrivo in Italia negli anni Ottanta e ci veniva detto, ha ragione, abbiate pazienza, siamo nuovo al fenomeno dell'immigrazione, fino a ieri eravamo un paese esportatore netto di emigrazione e adesso ci scopriamo destinatari di flussi migratori. Dateci tempo per elaborare le risposte alla vostra presenza. E mi sembrava anche una richiesta giusta perché rispetto ad altri paesi europei, l'Italia ha avuto la storia coloniale che sappiamo, sgangherata, parziale, non del tutto all'altezza delle ambizioni che le altre nazioni europee avevano avuto e hanno poi avuto concretamente. Quindi era un paese che non aveva, anche per il fatto tardivo della sua unificazione come paese, come territorio unificato. non aveva elaborato quell'alfabeto dell'alterità che nel bene e nel male, l'Inghilterra, la Francia e altri paesi con istituti di ricerca, centri, laboratori vari, insomma c'è stato un allenamento di questo paese a costruirsi un'architettura, un'alfabeto dell'alterità. E noi ci siamo messi a disposizione per, insieme agli italiani, insieme ai nostri nuovi concittadini, costruire insieme questo spazio di contaminazione interculturale, questo spazio di impollinazione da cui doveva nascere un mondo nuovo, un'Italia sempre italiana, ma che si sarebbe fatta ricca di tutti i suoi arricchimenti. Eravamo nati altrove, però avevamo saldamente piantato la nostra tenda in Italia e volevamo costruire questo paese, che notate bene, la cui multiculturalità non proviene dall'arrivo dell'immigrazione. L'Italia è originariamente un paese multiculturale, che cosa è l'Italia se non questo grande croggiolo di patrimoni storici, di culture, anche di influssi diversi nel corso della storia. Che cosa è l'Italia? È quella erede dell'impero austro-ungarico, l'Italia è quella dalle forti influenze francesi dalle parti del Piemonte, è quella del regno delle due Sicilie, è quella araba che ci ha consegnato città come Marshala. Quindi l'Italia si è costituita proprio come strutturalmente un paese multiculturale, multilinguistico, questo lo si dimentica spesso, abbiamo costituzionalmente riconosciuto tre lingue, oltre all'italiano c'è il francese e il tedesco, e multireligioso, perché poi c'è la Chiesa Cattolica, c'è quella valdese e così via. Quindi c'è già in città all'interno dell'Italia una multiculturalità che l'immigrazione semmai viene ad aggiungere un ulteriore elemento. E quindi abbiamo iniziato questo percorso a Roma, però anche in altre città, con grandi profetti come Monsignor Di Liegro, Don Franco Montero Ibianesi della comunità di Capodarco, grandi profetti, grandi uomini di Chiesa, però che erano anche grandi condottieri sociali, che hanno avviato un laboratorio intorno alla Caritas e non solo. Don Remigio Musaragno, che creò questo centro di accoglienza degli studenti stranieri. Via via però, a metà degli anni 90, abbiamo assistito a invece un processo che si era quasi invertito, abbiamo cominciato a assistere a quello che i sociologi, molti sociologi chiamano la costruzione sociale del nemico, che è andata in onda a rette unificate dalla metà degli anni 80-90 fino ai giorni nostri. Intorno all'accostamento, non veritiera nei fatti, tra immigrazione e criminalità e poi, con l'andare dei tempi, con l'esasperazione della questione sicurezza. La sicurezza diventa il luogo mediatico intorno alla quale ha esclusivamente ruotato la narrazione dell'immigrazione. Quindi, la sicurezza, l'emergenza, il padre parlava della crisi, l'emergenza, la crisi, come a piazzare questo grande fenomeno epocale che è l'immigrazione, destinato a cambiare profondamente la società italiana, a piazzarla in una specie di, appunto, luogo della paura, serbatoio della paura dentro il quale hanno lavorato tutte le imprenditorie della paura. L'imprenditoria della paura ha finito per sostituire quel laboratorio che timidamente, con la Caritas, con Migrantes, avevamo cercato in quegli anni di creare. Certo, abbiamo sbagliato anche noi. Abbiamo sbagliato, per esempio, folclorizzando l'alterità degli immigrati, dove si pensava che bastava chiamare un immigrato a suonare il tamburo alle feste dell'unità per fare l'intercultura. Bastava cucinare il couscous da qualche parte per aver fatto l'intu. Abbiamo dimenticato che l'integrazione era polvere e sangue che si svolgeva, soprattutto nei quartieri più poveri delle nostre città. Era lì dove dovevamo giocarci la grande scommessa della convivenza tra chi arrivava e chi c'era. Purtroppo la politica ha lavorato sulle paure e ha creato le condizioni per la guerra tra poveri. Ed è questa un po'. Oggi, quando si dice, è l'unica citazione politica che voglio fare, ma va fatta, quando si dice oggi Salvini. Ma Salvini è il frutto maturo di un processo di costruzione del nemico che viene da lontano, con coloro che invece non la pensavano così, che non sono stati in grado di accreditare nell'opinione pubblica, nei mass media, una narrazione di segno opposto. Anzi, la contagione dell'emergenza sicurezza è diventata patrimonio condiviso di tutto lo schieramento politico italiano, con delle gradazioni diverse. hanno abdicato i registi, i letterati, i filosofi, i pensatori, coloro che dovevano inoculare dentro la società gli anticorpi a questa narrazione tutta all'insegna della paura. e oggi ci troviamo in una situazione in cui tutto questo si è già sedimentato nel corpo vivo della nazione, del popolo, quei racconti del bar, quei stereotipi che tu dicevi, che non si riesce più a contrastare perché sono semplici e immediati. e noi invece vogliamo narrare la complessità. La complessità è difficile da raccontare. E questo è il problema. E per andare alla conclusione, a volte viene lo sconforto perché proprio sembra che siamo in una specie di lavoro di Sisypho, no? Quando riesci a insare un po', e c'è qualcuno che lavora per abbatterlo. Però mi dico anche, su questo mi insegna molto la mia origine negro-africana, Martini Luttatini diceva una frase che mi ha sempre colpito, è vero ci sono le parole dei cattivi, ma mamma mia quanto pesa il silenzio degli onesti, quanto pesa il silenzio degli onesti. E forse il nostro silenzio nel, pedagogicamente, prendere il tempo, non di stigmatizzare la paura dell'anziana che si ritrova un campo nomade davanti, che gli bruciano i copertoni, non può aprire la finestra. Quell'anziana non è razzista, non può vivere, gli si è creato un problema, glielo devo risolvere questo problema. E devo spiegare che tra lei che sta in quella condizione e il campo nomade, tutti e due forse sono vittime di un welfare, di un welfare che ha smesso di dare risposte. e il compito della politica, proprio quello di mettersi in mezzo, mettersi in mezzo, fare pace, fare pace significa ricondurre ad armoniosa ricomposizione i conflitti che ci stanno, è brutto negare i conflitti, bisogna guardarli, esistono, almeno io vivo in una città come Roma, che ho avuto l'onore anche di governare come assessore, dove i quartieri soffrono, c'è veramente una sofferenza sociale che noi abbiamo ignorato per tanto tempo. e velocemente delle risposte, delle tracce possibili di lavoro, io li trovo nella Costituzione, vado verso la conclusione, li trovo nella Costituzione, oltre che nel Magistero, da Cristiano e da Cattolico. Ma la Costituzione italiana è un impianto meraviglioso nei suoi tre primi articoli. Il primo, l'Italia è una Repubblica fondata sul lavoro, però i commenti dei padri costituenti a questo essere Repubblica, è questo, l'Italia è Repubblica non per il frutto del referendum tra monarchia e Repubblica, ma nella res pubblica c'è l'essenza della Repubblica democratica, la res pubblica che è inclusiva, e dicevano i padri costituzionali della Costituzione, la Repubblica o è inclusiva o non è. Ed è molto profonda la inclusività. E segue subito, il fondamento di questa inclusività sta nel secondo articolo della Costituzione. E sentite bene i verbi che vengono utilizzati. La Repubblica riconosce i diritti inalienabili della persona, li riconosce, non li conferisce, li riconosce, cioè preesistono alla Repubblica. Sono i diritti connaturati, appartengono alla persona in quanto persona. E stiamo parlando di gente che ha vissuto in esilio durante il fascismo, la maggior parte dei padri costituenti, e che sapevano che cosa vuol dire la negazione dei diritti inalienabili della persona. E la Cassazione ha sempre confermato che i diritti inalienabili della persona appartengono alla persona e non alla carta di identità, al passaporto, e così via dicendo. Da lì, da questi due, discende la terza, il terzo articolo. È compito dello Stato. Non è che lo Stato deve, è compito, c'è qualcosa di dirimente in questo compito dello Stato di rimuovere gli ostacoli che impediscono appunto la piena realizzazione della persona. E quindi l'immigrazione può essere trattata e comunicata politicamente, socialmente e mediaticamente con razionalità e con umanità. È possibile. Ma la strada adesso è molto lunga. Dobbiamo fare prova di grande pazienza di metterci nella durata come ci invitavano prima e di avere una capacità pedagogica di fronte a coloro che hanno paura. La paura è un sentimento irrazionale se uno ha paura, ha paura. Il problema è che noi dobbiamo dare risposte razionali a un sentimento irrazionale. L'esplosione avviene quando alla paura irrazionale si dà risposte altrettanto irrazionali. Leonardo parlava adesso di paura, paura è un'emozione. Adesso mi rivolgo al padre Aldo che è anche psicologo. Se ci aiuta un po' a comprendere quelli che sono i motivi di carattere psicologico che a volte sono di ostacolo per una corretta comprensione e un corretto modo di vivere il fenomeno dell'immigrazione o semplicemente l'incontro con l'altro. Poi se ci fosse qualche istante in più magari che noi ci interroghiamo sempre sul nostro stato psicologico su come noi affrontiamo come accogliamo magari c'è una condizione psicologica anche del migrante che affronta il viaggio che lascia la sua terra. Vediamo casomai un secondo momento successivo. Ora ovviamente devo affrontare un altro argomento rispetto a prima ma lo faccio molto volentieri e voglio partire con una citazione del filosofo José Ortega y Gasset molto conosciuto che in qualche maniera dà subito un po' anche il tono del mio intervento che viene dopo scrive Ortega y Gasset io sono me più il mio ambiente e se non preservo quest'ultimo cioè l'ambiente non preservo me stesso. Quando noi pensiamo alla persona all'individuo in realtà dobbiamo pensarlo incarnato in una famiglia in una società in una comunità di lingua di tradizione di religione insomma in una cultura e quando la persona in qualche maniera è costretta a lasciare questo suo ambiente certamente che anche nella profondità della sua psiche c'è una sorta di discontinuità una discontinuità che è fatta spesso e volentieri in forma violenta forzata oggi noi assistiamo sempre più a una maggiore caratterizzazione di migrazioni forzate nel mondo cioè persone che sono costrette a lasciare le loro case persone che in qualche maniera per un motivo o per l'altro compiono questo passo di discontinuità ora oggi uno dei problemi davvero importanti e molto delicati da affrontare è anche la questione della salute mentale nella popolazione migrante non se ne parla molto ma aumentano sempre di più ahimè i ricoveri a volte anche quattici forzati nei confronti della popolazione migrante rifugiata che manifestano nel tempo le conseguenze di traumi cumulativi che hanno vissuto dalla partenza all'arrivo abbiamo raccolto la testimonianza tragica di molte persone che oltre al fatto del lungo viaggio che ha delle conseguenze comunque nella persona deve affrontare anche umiliazioni carcerazioni deprivazioni violenze e questo ovviamente lasciano traccia nella psiche e nella mente della persona e immaginate poi quando queste persone che a volte fuggono anche non solo da conflitti o da povertà che sono state vittimizzate vendute rivendute cacciate e marginate arrivano in un luogo in un posto in una società che loro hanno sognato desiderato voluto ma incontrano un centro sbarrato chiuso incontrano una società molto piena di pregiudizi e di stereotipi contro queste persone e allora il mix che viene a crearsi certamente porta a quello che è il disequilibrio anche psichico del benessere psicologico del migrante ma quali sono alcune coordinate che ci possono aiutare a comprendere questo fenomeno il primo è quello della percezione la percezione la percezione è una forma di convinzione profonda a volte anche totalmente slegata dalla realtà che noi abbiamo di qualcuno o di qualcosa o di un fenomeno e se c'è un fenomeno che è percepito in maniera distorta a volte anche falsa è proprio il fenomeno dell'immigrazione a cominciare dalla presenza dal numero dei migranti che sono in una comunità o in una società e allora la percezione si radica talmente tanto all'interno delle comunità e delle persone che accolgono in questo caso tanto da trasformarsi in una forma di paura irrazionale la paura irrazionale produce poi anche la discriminazione cioè non si tratta più di un pregiudizio non si tratta più di uno stereotipo ma tutto questo poi diventa azione contro la persona a causa della sua origine della sua provenienza e persino della sua religione e allora non bastano e questo lo dico un po' anche da psicologo non bastano gli articoli scientifici le statistiche le situazioni di riflessione approfondimenti a cambiare la percezione ma serve un incontro vivo tra le persone e vi faccio un esempio molto semplice molto concreto le comunità che più hanno paura in Europa dei migranti e che più sono influenzate anche nelle loro scelte politiche dalla paura dei migranti sono in realtà e questo è stato studiato in Europa le persone che meno hanno contatto con queste persone migranti cioè io ho paura di ciò che non conosco nel momento in cui inizio a conoscere a entrare in contatto con queste persone le ricerche in psicologia ci dicono che anche la maniera con cui io mi confronto con queste persone cambia e siccome l'argomento è molto ampio voglio portare un esempio un altro esempio molto concreto è una è una ricerca che venne fatta negli anni 60 negli Stati Uniti sapete gli Stati Uniti la Francia e altri paesi hanno una tradizione di studi del multiculturalismo molto più grande dell'Italia anche nella pedagogia multiculturale e allora volevano capire quando e come nascono i pregiudizi nelle persone e che cosa hanno fatto hanno fatto degli esperimenti molto semplici all'interno delle scuole materne bambini piccoli già allora le scuole materne gli asili erano multietnici multiculturali e hanno messo i bambini uno di fronte all'altro casualmente quindi bambini di origine asiatiche bambini di origine europee bambini di origine latinoamericane bambini di origine africane e hanno fatto una semplice domanda che cosa c'è di diverso nel tuo compagno o nella tua compagna le risposte sono disarmanti nessuno nessuno di questi bambini parliamo quando parlo di nessuno intendo statisticamente significativo nessuno di questi bambini ha riportato una differenza connessa all'appartenenza etnica o culturale dell'altro compagno o la compagna ma tutti hanno identificato la diversità nel vestito nel capelli se uno magari aveva un giocattolo in mano se uno aveva le scarpette se uno aveva tutte questioni che non riguardavano l'identificazione etnica culturale se vogliamo lì si usa anche la parola raziale perché siamo negli Stati Uniti in un contesto particolare per confrontare o per affrontare la diversità e questo la dice lunga anche su come nasce e su come all'interno delle società viene perpetuata il pregiudizio lo stereotipo e anche poi la discriminazione ma partire partire e adesso andiamo dalla prospettiva del migrante partire è un po' come morire vi dicevo prima il me senza l'ambiente non è quasi più un vero me e allora il confronto con una realtà nuova il confronto con il sistema politico nuovo il confronto con un mercato del lavoro non facile il confronto con una società spesso o a volte chiusa prova quello che i psicologi chiamano reality shock o cultural shock ed ecco allora che entra in campo una forma di elaborazione del lutto del migrante di ciò che ha lasciato nel paese di partenza e l'elaborazione del lutto del migrante è quello che noi anche se ci piace dirlo è l'integrazione cioè tu per poter entrare in questo nuovo ambiente devi comunque cedere qualcosa di ciò che ti identificava fino all'altro ieri il processo migratorio e l'elaborazione del processo migratorio per i psicologi è una forma di elaborazione del lutto cioè di aver lasciato dietro le spalle una storia una famiglia e è dover adattarsi a una nuova realtà è importante comprendere e capire che gli strumenti psicologici qui parliamo molto di psicologia sociale hanno studiato molto questi fenomeni a partire dai dai crimini contro l'umanità e di guerra che sono stati perpetuati nella storia molti psicologi sociali emigrati negli Stati Uniti che hanno iniziato a parlare di pregiudizio di stereotipo di esclusione morale erano in realtà ebrei scappati fuggiti dall'Europa dalla persecuzione nazista e hanno elaborato queste teorie che noi abbiamo visto purtroppo perpetuarsi anche nei conflitti africani queste atrocità che venivano fatti contro l'altro semplicemente perché l'altro appartiene a un'altra cultura a un'altra etnia sono tutti strumenti importanti validi per comprendere come a volte di fronte a una percezione distorta del fenomeno migratorio possono nascere non solo dei problemi di pregiudizio di stereotipo cioè problemi mentali diciamo di confronto con la realtà col migrante ma possono nascere anche delle azioni profondamente contrarie alla dignità dell'uomo alla dignità della persona umana fino al suo annientamento morale che è quello che viene definito l'esclusione morale come era possibile mandare a morte a morire un'etnia una popolazione milioni di persone semplicemente perché appartengono a una cultura o a un'etnia e come è possibile che delle comunità intere abbiano per lo meno tacciuto di fronte a questa realtà ecco la psicologia sociale studia proprio questi fenomeni e aiuta le comunità ad affrontare perché situazioni del genere non si ripetano oggi nelle nostre società nei confronti dei migranti e dei rifugiati ultima domanda invito a delle risposte contenute misurate la nostra un'assemblea così che si rivolge in modo particolare il nostro incontro di questa sera si rivolge in modo particolare a una diocesi una comunità cristiana che cosa potrebbe fare una diocesi per cambiare la percezione del fenomeno migratorio e che cosa è chiamata quali potrebbero essere dei passi possibili da mettere in atto Gian Leonardo una domanda forse che sì che lacerei al teologo e ho riflettuto molto in questi anni in cui appunto mi sono impegnato lo sa Don Martino lo sanno anche gli altri proprio io ci ho molto creduto e ci credo ancora che che sia possibile su questi temi far prevalere la migliore tradizione europea la migliore tradizione italiana cioè quei valori per i quali l'Europa l'Italia viene invidiata nel mondo la centralità della persona il personalismo di Mugnier la solidarietà la 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 questa questo principio incredibile che si chiama sussidiarietà nella Costituzione italiana che tra lo Stato e le persone c'è c'è la capacità d'azione dei corpi intermedi cioè quello che ha impedito negli anni 80 che i quartieri che ci ricevevano noi studenti africani a Roma all'epoca che scoppiassero e che la nostra presenza era pedagogicamente accompagnata dai sindacati dalle chiese della Caritas ho detto ma c'erano dei corpi intermedi che si facevano garante della nostra presenza e che ci aiutavano a costruire insieme ai quartieri quei momenti di condivisione che poi sarebbero stati i pilastri della convivenza quindi quello che posso auspicare è che davvero ricominciasse questo cantiere questo grande cantiere oltre che della decodificazione dei stereotipi della costruzione sociale del nemico dobbiamo decodificarlo studiandolo come meravigliosamente ha fatto oggi il professore il preside ma decodificare non per per dare colpe c'è un proverbio africano che dice quando spunti il dito contro un altro ricordati che tre sono puntate contro te stesso Mandela ci insegna che la decodificazione la ricerca della verità serve alla riconciliazione Mandela ci ha insegnato questo verità e riconciliazione ha detto ai bianchi dobbiamo costruire insieme il Sudafrica il mio sacrificio di 27 anni in carcere deve essere un sacrificio non più solo per la maggioranza nera oppressa ma anche per la minoranza bianca per dare una possibilità di creare una nazione arcobaleno quindi dobbiamo decodificare tutto quello che è stato le scorie che sono state seminate nel corso di questi decenni di costruzione sociale del nemico per essere poi in grado di ricodificare pazientemente secondo me a partire dai territori dai luoghi della vita perché quello almeno la mia parte politica ha sbagliato pensando che l'integrazione potesse essere costruita in luoghi diversi dai luoghi dove la polvere dei quartieri e il sudore dei quartieri difficili spingeva la gente alla paura del nuovo che arrivava e come figlio di queste due sponde mi sento figlio dell'Europa ma anche figlio dell'Africa da dove sono nato mi ritrovo un dilemma il dilemma dell'incontro possibile o dello scontro possibile tra il centro anziano i centro anziani che è diventata l'Europa a causa del suo declino demografico quindi abbiamo il centro anziano e l'asilo nido bisogna in qualche modo mettere insieme queste due perspettive di vita in modo che possano mettere insieme il sapere del centro anziano e il potere della forza emergenza dei giovani a padre Aldo la stessa domanda un suggerimento sul come muoverci e su che cosa fare grazie cercherò di essere proprio telegrafico innanzitutto credo che sia fondamentale superare la semplificazione del fenomeno migratorio qualsiasi tipo di semplificazione di fronte al problema migratorio porta con sé non solo una visione errata ma anche delle azioni che hanno delle conseguenze vere concrete sulle persone non si tratta semplicemente di una modificazione di una teoria migratoria ma in base alla semplificazione o al affrontare la complessità le conseguenze che queste producono sulle persone sono reali e allora non bisogna sottovalutare inoltre la paura è naturale è umano avere paura avere paura di ciò che non si conosce a avere paura del diverso ma diventa problematica la paura quando essa avviene ingiustificatamente applicata indistintamente a qualsiasi diverso e quando la paura comincia a diventare un blocco per l'incontro con l'altro un terzo elemento lo prendo dalle parole del Papa dal titolo del messaggio del Papa di questa giornata mondiale per l'immigrazione non si tratta solo di migranti non si tratta solo di etichette non si tratta solo di categorie ma si tratta di persone si tratta di affrontare di confrontare di convivere insieme a delle altre persone e allora il superamento delle etichette il superamento del pregiudizio per arrivare a quello che è l'essenza stessa dell'altro la comune umanità un altro elemento importante e secondo me urgente in questo momento è quello di ribaltare la narrazione anche se io volessi cambiare idea sui migranti appena apro il giornale accendo la tv ascolto la radio vengo continuamente continuamente influenzato da notizie che certamente non associano il migrante il rifugiato o il fenomeno migratorio se no con delle situazioni problematiche della società e della comunità ribaltare la narrazione non significa non affrontare le situazioni reali ma significa dare voce alle persone dare voce alle storie dare voce alle paure dare voce però anche alle speranze che le persone portano significa inoltre potenziare l'educazione oggi purtroppo la parola educazione interculturale è scomparsa dalle nostre comunità a volte anche dalle nostre scuole significa incentivare l'incontro vero significa promuovere la cooperazione e per concludere con una visione teologica significa con due parole greche passare dal proprio oikos la casa la mia casa le mie cose la mia comunità a quello che il cristianesimo ci spinge ossia all'oikumene al mondo visto come una casa comune non sono ricette e non voglio passarle come tale ma dobbiamo convincerci che come persone individui e soprattutto come comunità cristiana possiamo fare la differenza possiamo cambiare innanzitutto educandoci la nostra visione ma possiamo essere anche fermento di cambiamento nella società ci sono luoghi virtuosi ci sono comunità accoglienti ci sono posti dove le persone anche se con difficoltà convivono bene insieme e il Papa il Santo Padre ha dato quattro parole quattro verbi quattro impegni alla comunità cristiana che racchiudono un po' tutto quello che la Chiesa le persone le comunità possono fare anche come esempio per il mondo accogliere proteggere promuovere e integrare e io credo che a questi quattro verbi non c'è molto da aggiungere se non da vivere grazie grazie a voi i relatori pensando questa serata di avviarsi alla conclusione verso le 22.30 magari qualche minuto in più ma non troppo 22.40 adesso avremo un po' di tempo allora per qualche intervento da parte dell'Assemblea c'è un microfono che sarà prontamente portato niente meno che da Don Martino grazie di queste relazioni che ho apprezzato molto mi aspettavo una parola per presentarvi loro che non mi conoscono ho fatto 15 anni in chat ho visto il problema dell'Ago chat e tutte quelle problematiche avrei due domande la prima riguarda l'oggi noi sappiamo che la crisi economica mondiale la sentiamo qui da noi abbastanza forte ma in quei paesi la è bicidiale sappiamo che sta chiudendo porte continuamente allo sviluppo alla speranza di quella gente ecco quanto questa crisi economica attuale sta aumentando il desiderio e la voglia di emigrare non è solo una crisi economica ma è una crisi che proprio perché economica riporta indietro nella relazione con la malattia ritornando ai guaritori nella relazione anche della religiosità ritornando indietro e la seconda domanda parliamo sempre di immigrati come una realtà totalmente positiva in realtà le grandi divisioni sappiamo che sono le divisioni etniche che sono il tarlo che ha impedito per tanto tempo lo sviluppo dell'Africa però che a mia c'erano almeno cinque tribunali etnici che fanno crescere e proprio a causa del blocco dello sviluppo questa crisi economica sta rilanciando alla grande questa divisione etnica all'interno degli emigranti stessi. Lei prima parlava della Repubblica del Sudafrica che rifiuta gli emigranti africani, ma è una realtà che ha delle conseguenze, ho l'impressione, su tante regioni, perlomeno su quel po' che conosco io. C'è qualche parola anche su questo, grazie. Grazie, Don Carlo. Pier Gianna da Vittorio Veneto. Ringrazio Jean-Leonard per la premessa che ha fatto all'inizio e cioè la sottolineatura della realtà che l'emigrazione è un fenomeno che ha da sempre coinvolto l'umanità. Dico questo per evitare che quando parliamo di migranti diciamo io sono a favore, io sono contro. Non è una questione di favore o contro. Detto questo vorrei fermarmi un attimino e proporre un esercizio. L'11 settembre sono cominciate le scuole. Tutti noi abbiamo qualcuno che frequenta le scuole, conoscente, parente, compote, eccetera. Proviamo a pensare quando i genitori scrivono ai bambini, ai ragazzi a scuola, il ragionamento che fanno rispetto all'inserimento degli stranieri. Succede che ci si chiede in quella classe quanti bambini stranieri ci sono e sulla base della risposta spesso si fa la scelta di scrivere i bambini, i ragazzi, nelle classi dove si sa ci sono meno stranieri. È, io credo, una realtà. Quando ci incontriamo quanti bambini stranieri ci sono nella tua classe? Ah, allora, se sono tanti. Allora, i bambini sono tutti uguali? Sì, sono tutti uguali, però dobbiamo considerare il modello educativo che ci sta dietro. Dietro ogni bambino c'è una mamma a casa che vive la situazione di donna migrante, inserita in una realtà, a partire da una cultura totalmente diversa. Mi chiedo se l'attenzione alle donne mamme è posta in modo sufficiente. Vedo situazioni di mamme che nonostante spesso abbiano partorito in Italia, ancora non conoscono la lingua italiana. Vedo situazioni di mamme che sono costrette a delegare l'educazione dei figli ai mariti, i quali sono via tutto il giorno al lavoro. A volte i bambini, i ragazzini, si fanno intermediari nella lingua con gli insegnanti, per cui succede che i ragazzini e i adolescenti si autoeducano e si fanno tramite con le mamme. Io credo che arrivati a questo punto un'attenzione grande la dobbiamo porre alla situazione delle donne straniere che risiedono qui in Italia. Perché su questo ci giochiamo un po' anche la questione proprio dell'integrazione. Perché è facile dire che i bambini sono tutti uguali, ma le premesse non ci sono perché possano essere realmente uguali. Grazie. Molto brevemente, grazie per questi interventi. Comincio subito a dire innanzitutto che noi dovremmo garantire, ed è questo il titolo che parte da Monsignor Scalabrini, passa da Papa Francesco e arriva alla Migrantes della CEI oggi, liberi di partire, liberi di partire, liberi di restare, liberi di tornare, liberi di partire. Le persone non possono e non possono e non devono essere costrette a lasciare le proprie case perché non trovano lì la possibilità di sviluppo e di vita dignitosa. Quindi devono essere liberi di partire, liberi quindi anche di restare, ed eventualmente liberi anche di tornare. Do un dato comunque perché faccio una sorta di contro-argumentazione. 95% della popolazione mondiale non ha mai superato un confine internazionale. Quindi attenzione, quando parliamo di crisi, invasioni, sono dappertutto, 95% della popolazione mondiale non ha avarcato un confine internazionale. Ma questo significa, appunto, ancora una volta, mettere l'accento nelle situazioni di ingiustizia, di sfruttamento, di sviluppo umano, integrale, necessario, affinché la migrazione sia una scelta libera e non forzata, sia una scelta che non sia dettata da una mancanza, una difficoltà che si vive. Poi un altro commento molto breve, veramente, voglio ricordare che il pregiudizio, lo stereotipo, la discriminazione, l'orribile fenomeno del razzismo non sono una prerogativa europea, sono una prerogativa antropologica, cioè appartengono alla natura umana. Paradossalmente possiamo dirci uniti, fratelli, nella discriminazione, nel pregiudizio l'uno dell'altro. Io ho visitato quasi tutti i continenti e vi assicuro che ogni comunità umana ha un amico e un nemico, ben identificato. E questo significa che certamente non vanno sottovalutate queste situazioni, ma d'altra parte anche non vanno localizzate e cristallizzate in una sola comunità, in un solo contesto. Il razzismo, la discriminazione, lo stereotipo, il pregiudizio vanno affrontate come problemi antropologici, cioè appartenenti a quelle dinamiche umane di uomini e donne che vivono all'interno della comunità. Anch'io lo sono sempre stato contro, ritengo che la divisione di una società, di una comunità in chi è buonista o chi è cattivista o contro l'immigrazione non ha mai portato a nessuna soluzione pratica, a nessun modo per affrontare seriamente il problema migratorio. Anzi, ognuna di queste visioni ormai cristallizzate e ideologizzate ci ha portati molto lontani rispetto ad affrontare i problemi veri che ha per esempio la scuola italiana. La scuola italiana ha una tradizione profondamente universalistica, aperta. è stato un motore negli anni 90, ma non solo, anche negli anni 80, è stato un motore di sviluppo di un processo di pedagogia interculturale molto bello e molto importante, ma che ahimè in questi ultimi anni ha trovato per una sorta di situazioni extrascolastiche, non legate quindi all'interno della scuola, ma extrascolastiche, come erano quegli esempi che anche lei riportava a fare della scuola italiana una sorta di problema, non come dovrebbe essere un valore e una soluzione del problema del multiculturalismo e dell'interculturalità oggi in Italia. Non basta lavorare bene con i bambini, bisogna lavorare bene anche con i genitori. Io ho lavorato nelle scuole anche quando ero a Brescia e vedevo molto spesso che i genitori non si avvicinavano ai professori perché o perché non conoscevano bene la lingua o perché avevano anche un senso di soggezione o perché semplicemente nella loro cultura di provenienza i bambini una volta a scuola sono totalmente consegnati la responsabilità della maestra o del maestro che è totalmente responsabile per l'educazione. Allora potenziare la scuola significa non fare un favore ai migranti, non essere buonisti, ma significa mettere le fondamenta per una società, e dico una parola che non è uscita questa sera ma forse doveva anche uscire, perlomeno come provocazione, mettere le fondamenta per una società aperta ma anche per una società più sicura. perché un individuo emarginato a causa anche della sua cultura e della sua provenienza e della sua religione quella emarginazione, come ci insegna ancora una volta l'orciologo Obama, prima o poi diventa rivendicazione. Grazie. Allora, sulla scuola penso che Padre Scoda abbia compiutamente risposto e aggiungerei solo che davvero sulla scuola ci giochiamo molto perché come recitavano i decreti delegati una volta, non so se ancora esistono, la scuola è il luogo della formazione dell'uomo e del cittadino. Era molto bella questa definizione. Ora bisogna capire oggi, proprio in modo dinamico, che cos'è l'uomo italiano di oggi, che cos'è il nuovo cittadino italiano, nel suo pluralismo identitario, culturale, nelle sue origini, cioè l'uomo e il cittadino che dovremmo formare oggi si è arricchito di affluenti culturali e religiosi diversi che si uniscono al grande fiume Italia multisecolare. E sarebbe lungo il discorso della integrazione, dell'accettazione delle culture le une con gli altri, che cosa vuol dire integrazione, la questione innegabile di una certa, della presenza dell'Islam, di un certo Islam anche. Tutti problemi estremamente complessi che intanto ci pongono di fronte all'identità. Io quando vedo un cittadino di fede musulmano nel treno che a un certo punto si mette là e comincia a pregare davanti a tutti, quella quale cosa ad alcuni dà fastidio, ad altri indigna, mi richiama però alla mia difede e alla mia capacità anch'io di così, molto liberamente e spontaneamente di fare quello che devo fare da cristiano, andare alla messa, eccetera, eccetera. Un'identità forte non deve temere l'identità e l'identità altre che arrivano. E mi ricordo sempre una parola molto saggia di Martini, in materia di cultura non bisogna togliere, bisogna aggiungere. È molto bella questa, non bisogna togliere ma bisogna aggiungere. Però perché ci sia incontro bisogna che ci sia la dualità. E quindi il cortocircuito di valori, di trasmissione culturale che c'è tra le nuove generazioni e le generazioni che la precedono in Italia pone la questione che cosa parliamo quando parliamo di cultura, di patrimonio, della nostra identità. Quando ci sono ragazzi che nascono e crescono a Roma non sanno che cos'è il Colosseo, che cos'è la Roma rinascimentale, non si sono nutriti, abbeverati di quello che sono, che è il solco della loro identità. rischia di essere qualcosa di vuoto, che trema di fronte invece all'identità fieramente, orgogliosamente esibita dagli altri. Il problema però è tuo, non dell'altro. E comunque dico che la Costituzione rimane comunque un contenitore che ci dà dei principi anche per affrontare alcuni nodi importanti. Ecco, la parità tra uomo e donna, il rispetto dell'integrità fisica della persona e così via dicendo. Sono tutte cose che sono diventate patrimoni nostri, nostro, ma che sono anche patrimonio dell'università e dell'umanità perché quei principi, non li ricordiamo, non li dobbiamo mai scordare, stanno dentro le carte fondative delle Nazioni Unite e di tutte le carte di difesa dei diritti umani, firmata da paesi scintoiste, buddiste, musulmani, cristiani e così via dicendo. Ecco, è un patrimonio comune che ci appartiene, quindi l'integrità fisica delle persone, la parità tra donne, il non matrimonio forzato delle ragazze, sono tutte cose che trovano, secondo me, delle risposte all'interno di valori condivisi che bisogna riaffermare. Secondo me in modo molto pacato, molto chiaro, molto netto, c'è anche un dibattito all'interno stesso dell'Islam molto interessante su questi temi che va seguito, che va studiato con grande attenzione e con grande rispetto, secondo me. Quindi sono questioni estremamente complesse che però meriterebbero un'altra conferenza. Velocemente la questione dello sviluppo economico. Bauman, più volte citato in questa serata, dice che la globalizzazione è fatta da flussi, flussi di merce, flussi di capitali e flussi di informazione. E la caratteristica dei flussi, secondo Bauman, è che sorvolano le persone e i territori. E ci sono quindi all'interno di questa globalizzazione fatta da flussi, persone e territori che non vengono toccati da questi flussi e che sono inchiodati alla loro drammatica località, dice Bauman. Quello che Serge Latouche chiama i naufraghi dello sviluppo, gli immigrati sono in qualche modo i naufraghi dello sviluppo. E per quanto riguarda l'Africa, sono i naufraghi di quella incapacità o impossibilità che l'Africa ha avuto dopo l'indipendenza di invertire il modello predatorio. Cioè invertire quella divisione internazionale del lavoro che gli ha assegnato il ruolo esclusivo di esportatore di materie prime di natura minerale e vegetale. L'economia predatoria, anche se ci dimostra che l'Africa cresce in termini di investimenti esteri, in termini di produzione del PIL, in realtà quella economia là non è oikos nomos, perché non risponde ai bisogni essenziali delle persone che sono anche diritti fondamentali. Quindi sì, c'è sicuramente la grande questione delle spedicuazioni economiche dietro l'immigrazione e c'è un messaggio molto forte che ci consegna Giovanni Paolo II nella Solicitude Reis Socialis quando parla di strutture di peccato. Quindi della globalizzazione come strutture di peccato che non è la somma dei peccati individuali ma che è la struttura economica che nel suo funzionamento genera oppressione, genera ingiustizia. Allora non ci basta più curare la vittima dei banditi nella strada tra Gerusalemme e Gerico. Bisogna fare in modo che i banditi non passino più per quella strada lì. Sono le 22.40, c'era una domanda in fondo ma ci fermiamo qui per non approfittare troppo della pazienza. Grazie dell'ascolto. Concludo con un pensiero del Papa a riguardo della giornata mondiale del rifugiato. Non si tratta solo di migranti, conclude così, che possa essere d'aiuto anche per tirare le somme di questa serata che abbiamo vissuto insieme. Non è in gioco solo la causa dei migranti, non è solo di loro che si tratta ma di tutti noi, del presente, del futuro, della famiglia umana. I migranti, e specialmente quelli più vulnerabili, ci aiutano a leggere i segni dei tempi. Attraverso di loro il Signore ci chiama una conversione a liberarci dagli esclusivismi, dall'indifferenza e dalla cultura dello scarto. Attraverso di loro il Signore ci invita a riappropriarci della nostra vita cristiana nella sua interizza e a contribuire, ciascuno secondo la propria vocazione, alla costruzione di un mondo sempre più rispondente al progetto di Dio. Ecco, ci aiuti il Signore a intraprendere e a sostenere questo cammino. Grazie dell'attenzione, grazie di essere venuti, grazie ai nostri relatori, uscendo trovato del materiale che potete prendere liberamente, anche delle copie e delle azioni. Grazie ancora e buona sera. grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.